e dopo sarà un amore e anche dopo sarà sposata questo uomo sarà vero, può vivere con lui una vita fanno una famiglia, perché dico questo? perché quando imperatore e imperatrice sono insieme significa che fanno sposata o vivono insieme in una casa e fanno famiglia e vengono anche bimbi può vedere la carta dell'amore questa sposata sarà con grande amore vanno al mare, bagnano insieme e fanno sesso e sentono nel cuore sono bene la carta dell'amore la carta dell'amore la carta dell'amore la carta dell'amore